La vicenda dei 15 magistrati un po' crea un clima di tensione in questo distretto, quella pubblicata ieri dal Fatto Quotidiano? Non mi pare almeno da quello, noi ieri abbiamo lavorato regolarmente, io personalmente ieri ho fatto interrogatorio, ho fatto le mie attività, non credo che ci siano grandi turbamenti almeno per quello che riguarda il mio ufficio, la mia posizione, poi per il resto insomma avete avuto già indicazioni da chi di dovere. Questo è il territorio forse più complesso dell'area della provincia di Cosenza, per mille ragioni, per mille motivi, insomma che non sto qui adesso a riepilogare, ma è quello che stiamo cercando di fare ogni giorno, lo stiamo facendo ormai da quando io sono alla guida di quell'ufficio e penso che i risultati si stanno vedendo un po' in lungo e in largo, soprattutto in termini anche di sentenze, per fortuna non abbiamo avuto, quando arrestiamo le persone rimangono dentro, quindi abbiamo un indice di scarcerazione assolutamente limitato, ridotto rispetto alla situazione generale delle misure cautelari, quindi vuol dire che si lavora bene nella fase delle indagini e poi si arriva anche ai risultati che sono le sentenze. Gli omicidi che stiamo risolvendo si stanno chiudendo tutti o in abbreviato addirittura con i processi di primo grado che attessano la responsabilità penale, quindi questo è un motivo certamente di soddisfazione non solo per me ma per i cittadini onesti di quel territorio. Forse sul territorio adesso dà fastidio l'azione del mio ufficio, comincia a dare fastidio, quindi ci sono diversi segnali per la verità non da oggi, già che sono stati oggetti di segnalazione a chi di dovere nei tempi passati e questo probabilmente non va bene a chi, che è la minima parte, che è presente su quel territorio, ma noi ci siamo, ci saremo e assicuro che faremo la nostra azione come abbiamo dimostrato in questi giorni.